Ballando con le stelle, addio Samuel Peron, Millie Carlucci cerca nuovi maestri Samuel Peron non farà più parte del cast di Ballando Morto un papa se ne fa un altro, figurarsi quando si tratta di un maestro di Ballando con le stelle La prima ad aver detto addio a quella gabbia dorata è stata Natalia Titova, il secondo è stato Raimondo Todaro, entrambi arruolati da Maria De Filippi E il terzo che si è fatto blandire dalle promesse di Mediaset è stato Samuel Peron che ha deciso di partecipare alla più sfortunata edizione dell'Isola dei Famosi di Sempre Ora non potrà più partecipare a Ballando e infatti Millie Carlucci gli ha già fatto gli auguri per la sua nuova carriera e come ha specificato in un'intervista al settimanale di Più TV Ora è alla ricerca di nuovi maestri per Ballando con le stelle Millie Carlucci è alla ricerca di nuovi maestri, non è solo questione di talento Millie Carlucci è alla ricerca di nuovi maestri di ballo per Ballando con le stelle 2024, non è solo questione di talento, ma anche di personalità ha confermato lei D'altronde i maestri di ballo sono fondamentali per la buona riuscita del dancing show di Rai Uno che quest'anno dovrebbe vedere un cast stellare oltre al fatto che la Rai ha un'idea molto interessante e che andrebbe a premiarlo dopo anni e anni di messa in onda Intanto Millie deve fare i conti con il flop della cappalenti che proprio non è riuscito a conquistare il pubblico di Rai Uno Ballando on the road parte il 15 giugno, Millie Carlucci è al settimo cielo Dopo la cappalenti la conduttrice sarà impegnata con Ballando on the road, segno che proprio non riesce a stare con le mani in mano Lei ovviamente è al settimo cielo perché ci tengo moltissimo a questa fase preparatoria del grande show del sabato sera Si partirà il 15 giugno da Bergamo e poi andranno in Campania e si chiuderà a metà luglio a Roma, la città eterna Molti si presentano il giorno delle selezioni con anche più numeri di ballo, in coppia, da soliti o in gruppo C'è davvero un grande entusiasmo, simbolo che l'Italia ama il ballo Con Millie Carlucci ci saranno anche Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale, Carolyn Smith E a rotazione alcuni maestri ancora in attività come Anastasia Cusmina, Alessandra Tripoli, Moreno Porcu, Angelo Madonia e Lucrezia Lando